Non solo zuppe, risotti e pappardelle, all'Istituto Vegni delle Capezzine di Cortona a trionfare è stata la farinata gialla promossa dalla giuria della nuova tappa di Primi di Toscana, la sfida tra gli studenti di 14 istituti alberghieri voluta dalla regione toscana per esaltare i sapori e i primi piatti tradizionali di ciascun territorio. Entusiasmo, creatività e competenza tra i fornelli sono i primi ingredienti impiegati dagli studenti per realizzare i loro speciali primi piatti e prendere parte alla gara. I ragazzi vivono, sentono la competizione e questo li sprona a dare il meglio di se stessi e in più c'è stimolare la loro creatività mettendosi a confronto con quella che è la tradizione e la rivisitazione dei piatti tradizionali. Estro, gusto, sapori e colori riversati nei piatti proposti anche al Vegni come in ogni tappa di Primi di Toscana ha una giuria qualificata che ai ragazzi ha saputo dare anche suggerimenti e dritte per migliorarsi e diventare veri professionisti. Ma qual è il segreto della farinata vincitrice? L'ingrediente principale è il cavolo nero e la farina gialla e contiene all'interno della pancetta carote, sedano, cipolla, aglio e altri molti ingredienti. E ora la farinata volerà dritta in finale l'11 maggio all'Istituto Alberghiero Saffi di Firenze. Grazie.